Con Michele Passalacqua, responsabile della scuola calcio dell'Arezzo, la prima scuola calcio della storia maganto. Sì, finalmente anche ad Arezzo, nella società professionistica della nostra città, abbiamo la scuola calcio. È un progetto che va a dare ancora più forza a tutto il mondo dell'Arezzo, della società sportiva Arezzo. Quindi siamo pronti e ben organizzati per partire. Con quali progetti? I progetti sono tanti, quello prima di tutto è ovviamente la crescita tecnica e non solo dei ragazzi che verranno a far parte della nostra squadra, delle nostre squadre. Altri progetti coinvolgeranno anche le squadre ovviamente dilettantistiche della provincia perché vogliamo essere un punto di riferimento anche per loro, cercare di aiutarli in molte cose e avere anche molti punti da condividere ovviamente con l'unico obiettivo che è quello della crescita dei nostri ragazzi della nostra provincia. Ci troviamo alle caselle, lavoro in corso, sarà questo un po' il centro, diciamo il cuore? Sì, questo è il centro tecnico. In realtà è un bellissimo centro, come dici te, ci sono i lavori in corso, quindi sta diventando un bellissimo centro dove potremo lavorare. Perché già il campo in erba è pronto per accogliere le prime squadre. Non credo, io è un po' che alleno e di centri così ne ho visti pochi per squadre della nostra categoria. L'età a chi vi rivolgete per la scuola calcio? Noi abbracciamo ragazzi nati dall'anno 2013 fino ovviamente al 2007. E' aperta a tutti e ovviamente abbiamo un limite più che altro numerico per quello che riguarda le iscrizioni per cercare di lavorare bene su un certo numero di persone, di giocatori ben preciso. Infine cosa vorrà di far parte di questa scuola calcio? Ma tantissime cose, è un'opportunità, è una cosa bellissima. Io vesto questa maglia ormai da quattro anni e lo dico con sincerità, è veramente bello. Ovviamente cerchiamo di dare un livello tecnico e un livello di educazione. Avremo una nutrizionista, avremo preparatori motori, avremo degli istruttori ben preparati, giovani e anche esperti che potranno aumentare ogni tipo di dote che riguarda il mondo calcistico dei ragazzi. Far parte dell'Arezzo si sa è un sogno per tutti. Quindi ovviamente il nostro obiettivo, quello principale, è quello di riuscire a portare più ragazzi possibili dalla scuola calcio più vicino possibile al settore giovanile e magari chissà un giorno di conseguenza più vicino possibile alla nostra prima squadra.